E' da Osteria Batti Becco, Marco Pampa, Giovanni Paolo II E' da Osteria Batti Becco E' da Osteria Batti Becco E' da Osteria Batti Becco, Marco Pampa, Giovanni Paolo II L'ultimo giro per te Mauri Trivù! Finale! Nella nostra tv con il Fox E' arrivati, complimenti coppie, il Fox E adesso continuiamo Polchettina, vai più veloci!